Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio dei Simpsons, un videogioco! Sono combattuta tra il voler comunicare con gli alieni o volerli insenzionare. Cavolo, Lisa è una psicopatica. Papà, guarda, frugano e risucchiano cittadini innocenti. Dove sono le guardie? Chissà perché quando faccio una pisciatella nella fontana ci sono sempre. Fermo, fermo! Ehi, smettetelo di rubare! Ho passato tutto il giorno ritagliare questi italiani per macchine con immagini magiche dallo schermo piatto. Brandin deve guardare le sue torie a 1080p. Questo umano possiede piccoli pezzi di carta che gli garantiscono grandi, grandi risparmio. Andiamo a studiarlo. Studiarlo con la solda anale. Ovviamente con la sonda anale cos'altro dovremmo fare? Parlatigli! Per fortuna stanno torturando quel cesso. Questo è il momento per attaccare! Questo è il tempo in giro che faccio strike. Ho dovuto farlo prima. Non vale di niente! Sì, ma questi alieni cosa se lanciano come armi di spasmi? Fatemi capire! Ah no! No! E uno, e due, e tre! Beh! Ma no! Perché sono venuto proprio di qua! E togliti! Sì! Ah dai! Un po' da questa parte già! Ok! Ce l'ho fatta! Cambio! Cambio! Vabbè! Noi tanti giochi! Poi, ho fatto una madre! Hai tempo di volare! Vai! Vi andiamo! Vabbè! 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 Va! Vabbè! 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 Non lo so, non staccato dai di spasmic Dai vieni giocchi e poi dai vieni giù E con i giochi si che poi va impazzito Ma della Wii capita sempre Ok a posto Una cosa della Wii che hanno fatto di negativo sono i joystick E la voglio fare tutto controller Ok vediamo, si Ancina Batemi sotto Cavolo Ma i gesti gli fa fuori subito Da quella forma di palla prendi il scudo ok mi ti pare che non ce ne vedo la tappate ok ho visto la leva prima l'avevo vista non l'avevo vista perfetto un bigioco va bene è da poco che non faccio un bigioco su il mangiare contro l'uomo fumetto ok da la terra di mezzo il primo mangiare che a combattere non mi ricordo come ok ok sono in vantaggio maledetto primo round vinto siamo al secondo no becati questo becati questo è andato bene e allora lo verdure e ho vinto vai così ok possiamo dare il momento qui e passiamo pensiamo alla missione ok ok sono da questa parte quindi devo andare da una parte ma cosa uccidiste il gioco è diverso non dovrei calciarmi qua no beh beh ne dirà come faccio no allora andiamo un pochino di qua se la non ci arrivo di certo ma ho capito ho capito vabbè vabbè in questo periodo vedo problemi di andare avanti a parte che le male che non li avete ma è un modo di dire vai vai bala 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 no e dai ma non ti credo che non ti arrivo vai più in alto vai più in alto e vabbè e vabbè al diavolo magari è solo quel bonus e infatti e infatti e infatti un po' e tercero che ora ho capito il Ok, fatto. Ma che bintanisti. Intanto c'era la maestra di Bart rinchiusa. Forse mi sbaglio, ma mi sembra che questa parte non c'era sulla versione per se sono 3, 2. Mi sembra, eh. Vabbè, ho un vuoto di memoria. Un episodio che ho visto di Stinson in attuare sul camera di... ...Killer e qualcosa. Guardate questo. Ma attacco brutto. Tanto qua ieri sono infiniti. Beh, almeno questa parte non è tanto complicata che vi fa finirla subito. Andate il maiale, andate il maiale. No. Oh, i dopalini, i dopalini. No, cavolo. E comunque, ecco qui la professoressa. Alla fine ti hanno... ...rinchiusa. Solo legge qua. Sì, sì, saltiamo. Ok, uno, quattro. Ecco, questa parte è facile. E due. Allora, alleva, alleva, alleva. Padini. Manda i padini. E due Ecco il prossimo Ma no Stai scherzando Vabbè solo l'ulto devo fare Meno due E finito Ah con pulsante devo scherzare Veramente E appunto Ignora tutti Vai là Non serve che urli di tardore Nello spazio nessuno ti può sentire Non siamo nello spazio Ma siamo in una navicella spaziale Non è la stessa cosa E' piuttosto strano che stia lavorando con gli alieni Cerca di non pensarci troppo Concentrati su quanto vedermi qui sia una sorpresa inaspettata Tanto non vi vai abbastanza per sentire la complicata spiegazione Così si spezza un cuore nobile Buonanotte dolce Simpson E che voli di alieni vi conducano al vostro animoso Oh ma quell'attrezzo è ovunque Ti avevo detto di raccogliere la rampa di lancio Non importa E' stato stupido incaricare un ex clown televisivo Di coppire un lavoro da alieni Avremo la nostra vendetta Mi spiace in colpa mia Non capisco quale vendetta Ma vabbè Ok raga Questo episodio termina qua E alla prossima Ciao